Giuliano, siamo abituati a raccontare i progetti in video, il tuo studio a Napoli, ma lavora a Milano e non solo in Italia, una domanda sul progetto di oggi, che porti oggi per ArchiEnergy che è un contesto molto particolare e soprattutto tratta il tema vasto della sostenibilità con qualche trucco progettuale. Sì esatto, il progetto in realtà è la casa dell'architetto, quindi è un progetto personale perché si tratta della mia abitazione e quindi un modo per capire come effettivamente un architetto si confronta con lo spazio, il proprio spazio, quindi non ci sono più i clienti da dover gestire ma c'è la tua vita personale. Esatto, è quindi un progetto particolare perché si tratta di un immobile della fine del 1700 con grandi volumi che andava completamente ridisegnato e riproporzionato, per cui l'approccio è stato quello di utilizzare quindi gli impianti di ultima generazione per risolvere dei problemi strutturali ovviamente dell'immobile. Dici impianti di ultima generazione perché avrai usato il? Il riscaldamento e il raffrescamento a pavimento. Che in un contesto del genere è abbastanza raro. Sì, è abbastanza raro però risolve la questione delle altezze, l'appartamento è alto più di 5 metri, ha moltissime aperture, quindi il modo migliore era quello di mettere tutti gli impianti a pavimento e utilizzare l'altezza e quindi sfruttare il calore, quindi la risalita del calore. I tuoi progetti hanno molta identità, ne ho conosciuti alcuni, anche una casa a Milano specularmente divisa in due dove lasciavi quasi anastiloticamente leggere il processo di progetto. In questo progetto che porti oggi invece qualche dettaglio? Ma in realtà è un progetto molto napoletano, è forse il più napoletano dei miei progetti, per questo è inserito in un contesto aristocratico di un vecchio palazzo in cui la parte strutturale dell'edificio, dell'appartamento è rimasta inalterata, ho restaurato anche qui come sono solito fare i vecchi affreschi, i finti marmi che c'erano alle pareti e ho fatto sì che la casa subisse una sorta di un processo, sì esatto, che ci fosse il nuovo nel vecchio e quindi come restaurare la parte antica e come far sì che la vita poi continui, quindi nel tempo, per questo c'è un inserimento nuovo all'interno di questo involucro. Sei molto attento anche al recupero di mobili antichi, di modernariato, è proprio una tua specializzazione ma un trasporto potremmo dire, lavori anche con alcune aziende nel creare con disegni storici alcune decorazioni contemporanee, parliamo un po' di questo e poi andiamo sulle nuove tecnologie, quante e come ti affascino. Questa casa è molto napoletana anche nella scelta degli arredi, sono riuscito a trovare dei importanti mobili disegnati a Gio Ponti per l'Hotel Royal di Napoli che sono poi stati collocati nella mia camera da letto, ho trovato delle bellissime sedie che le ho disegnato sempre per le stanze, degli armadi, quindi volevo che poi anche il tocco pontiano ci fosse all'interno di questa, anche lui si era confrontato con Napoli in qualche modo e quindi con la nostra penisola. Poi ovviamente ci sono le cose che disegno anch'io lavorando appunto per una azienda che è Livio De Simone, un'azienda napoletana, c'è la ricerca di tessuti, quindi sia la parte di archivio dello stilista degli anni 60 che la nuova produzione che io tutt'oggi curo con la figlia Benedetta De Simone e cerchiamo delle nuove collezioni che possano essere attuali pur essendo ispirati al lavoro del padre. Giuliano Dell'Uva, mi vengono in mente tante copertine, riviste importanti e il decore non solo a di eccetera, mi viene quasi strano pensare a un tuo utilizzo della tecnologia, allora una domanda proprio così, chi si occupa in studio di questa parte, la segui tu direttamente, ti rivolge dei professionisti? Sì, la seguo io in prima persona perché ovviamente fa parte del progetto, anche se è poco visibile, però comunque parte del progetto, però ovviamente mi affido dei professionisti validi che fanno in modo che il progetto ovviamente sia impeccabile, questo anche per casa mia devo dire di aver riscontrato soprattutto nel raffrescamento e quindi nel riscaldamento attraverso un benessere dell'intera, anche di chi abita, di chi è in casa, con me, l'ospite eccetera. Senti, un'ultima domanda, mi sembra di capire che per te il concetto di sostenibilità è un concetto culturale, di recupero, di rilettura, quali sono altre parole chiave che possono disegnare per te sostenibilità? Sicuramente, adesso si parla tanto di design, però la sostenibilità e quindi si può cercare la sostenibilità attraverso delle forme nuove, quindi d'altro canto ne parlava Ponti, quindi di cercare di trovare il bello anche nell'evoluzione, quindi sicuramente si può ancora lavorare su questo argomento, soprattutto nella parte impiantistica, bisogna cercare di essere un po' più vicini al progettista, molto spesso ancora si parla di parti tecniche, ma in realtà sono tutt'uno con il progetto, quindi su questo bisognerebbe ancora lavorare e capire quali sono le richieste del progettista e anche stilistiche del cliente che ormai è sempre più colto, informato, grazie proprio a tantissime riviste social il cliente è molto informato, anche troppo. Bene, grazie per il suggerimento, un desiderio che riguardiamo a Fisman, grazie. Grazie mille a te. Grazie mille a te.